Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Biola. Siamo qui ad aspettare che l'agente X arrivi nella nostra base. Mi sa che già sono arrivati, perché qua vedo degli investigatori strani, ma non capisco dov'è l'agente X. Quindi in realtà io mo' lancio un allarme rosso, lancio un allarme rosso a bestia, e mo' andiamo ad attaccare l'agente X ovunque si trovi. Ok, tutti i turisti stanno scappando, quindi sta gente incannata, possiamo anche ammazzarla. Tiè. Vai, vai, pensateci voi. Questi li ho catturati per qualche dossier gratis. L'henchman sta combattendo, quindi dov'è? Ok, gli attivo il roll del dargetto e questo sdraglia tutti. Appassiamo la velocità. Questo è un terminator comunque. Ok, se ne è sdragliati già tre. Quattro! Te dirò, quattro eh! Poi invece, c'era il superagente. No, qui ho sdragliato tutti. Guarda quanta gente, come è popolata la base. Tra poco arriveranno anche dei saputatori, a quanto dice il coso in alto a destra. Questo è un raccoglianzola, sono sicuro. No, invece. Prova falsa! Ricomenta di impronte da gente X! Non so mica che cos'è sta roba. Ma quindi sono finiti, sti che amici. Pagate sì. Non lo so. Qualcosa che non mi domina c'è. Ricomenta di impronte da gente X! Non lo so, non lo so. Non lo so. Che cosa sarà questo? Distruggiamo la prova falsa. New optional objective available. Boh, non lo so ragazzi, non ne ho idea. Comunque ho fatto sta missione. Dov'è cazzo strada sta gente X e non si capisce. Vediamo se è tornato sulla pappa del mondo. Non lo so, non si capisce. L'ho ammazzato? Può essere. Comunque credo che sia qua, per forza. Ci mettiamo una mega porta. Allora, non lo so, non lo so. Non lo so, ma ho ammazzato soddisfatto sta cosa da gente X, ragazzi. Non so se se no, da... Ecco, andiamo a interroga questi qua per qualche dossierino Radis. No, qua mi vede il piano quello là, il demolitore. E qua comunque ovviamente posso fare progetti proprio a stecca. Tutti fatti qua. Qua no. Qua c'è uno stato... Cinque scienziati da reclutare, però. Sei operai. Qui ancora c'è la signora Faxword. Oh, la prova falsa dell'agente X la dovresti stare a distruggere. Quindi... Cos'è? Chi è? Perché sono diventato cieco? Non sei cieco. Quando abbiamo collegato il dispositivo Mida, l'alimentazione si è interrotta. Ok, comunque ho fatto l'apertura del coso, quindi. Mi hanno pensato a Mida. Va bene, perfetto. Quindi... Ah, ok. Tiè, guarda che figo. Per anni gli alchimisti sono sforzati di trasformare il piombo in oro. Quanto pare tutto tranne il piombo si trasforma in oro, si è esposto a un certo composto creato in questo calderone. Ammazza. Ammazza. Ok, ah, figo. Quindi mo' questo in realtà non si usa. Utenti solo genio. Quindi? Attiva Mida con la scrivania notevole. Attiviamolo. Sì. L'evil non si dorme. Attiva Mida, tieni. E che cosa farà? Abbassiamo la velocità e vediamolo. TASK COMPLETE. Affinito. TASK COMPLETE. TASK COMPLETE. TASK COMPLETE. Qui per una demolizione non preparata. Questo? Ho sentito che qualcuno vuole fare una demolizione, quindi attenzione che probabilmente questa qua è la domica Olga o qualcun altro, eh. Niente, a me stanno a bocca a tutti. A me stanno a bocca a tutti i superagenti. Eh, mo' ragazzi, ci diventi scemo così, eh. Eh, quando senti queste voci, mi sa che è il momento che ti stanno per attacchiare. L'agente X comunque in realtà non era venuto lui personalmente, ne sa. Anche se non vedo più il simboletto dell'agente X. Boh, vabbè. Quindi, mo' che è attivato Mita, non lo posso più fa', è infatti ok. Recupera particelle AU-TOMICHE dal parco mondiale. Ok. AU, che è il simbolo dell'oro, no? Mazzo. E dove stanno queste particelle AU-TOMICHE? La c'è Giubè. Boh. Mi sa' dove stanno. E quando giochiano? Oh, senti. Abbassiamo la tensione pure se c'è sta cosa al superagente. Eh, voglio vedere che succede. Pare niente. Allora proviamo a fargli davanti in faccia la cosa di Giubè. Però prima devo mandare Maximilian a pompare l'addestramento alla gente, quindi... Dove l'ho mandato? Arrivata un'ondata di superagenti. Ecco. Ecco. Bola demolitrice arrivata. Con il martello gigante. Come succede in casino? Guarda qua. Ha detto alle demolizioni. Attenzione, oh! Ah, ma quindi poi comunque arrivata qua? Attenzione! Mo' fa un casino, percorso. E mo' che devo qua? E questo superagente, quindi sicuramente devo prendere Barakuda. Che non avrà sicuramente il morale per attivare le altre abilità. Eh, infatti no. Eh, questa è una tragedia. Senza Barakuda che ammazza tutti con la pistola di Terminator. Ho perso. Ma non si attiva mai un secondo henchman? Il migliore di ogni tanto è davano un secondo henchman. 116. Mi sono splittato alla base, praticamente. Allora, questo sta per arrivare. Però fortunatamente ci mette tanto a camminare. 150.000. Oh, è miniatura lo so finito in realtà. Quella sottotera? Anche. Scusa, questo amore fa? Così cammino con questa propria potenza, così. Martello gigante. Ah, da qua? Quindi vuol dire che poi mi... No, vabbè. No, vabbè. È una tragedia questa. Se proprio pure andate qua. Mi pongo pure in bocca da qua. Che sta facendo questo? Vabbè. Comunque sicuramente questi devo giocare. Quindi, mo che Eli si ricarica tutto. Siamo l'allarme rosso. E gli faccio un casino. Mi manca ancora una piotta da vita. Oh, è visibile? Ok, posso suonare l'allarme rosso adesso? Ok, noi pilotiamo l'Hanchman perché per forza. Ok, quindi in Superagent Happing lo vediamo, ragazzi. Questi mi sa che sono quelli tra i vestiti. No, guardate no. Non c'è problema. Non posso fare questo. Oh, ho visto. Eh, ma scusa, se questo ce va da solo, muore. Oh, ok. Ok, gli sparo un faccia. Sì. I salari sono stati pagati. Speriamo che non muore questo. Ah, uno se è già sdraiato. Perché non sta attaccare a Superagent e non lo sa nessuno. Sono stati attaccare a lui, però. Buonissimo. Oh. Ammazzato. L'ha ammazzato. Ok, perfetto. Eh, però, come hai visto, non è cascato un morto per terra. Quindi questa è la prova che quando tu ammazzi in Superagent, poi in realtà non vieni. Cioè, quello poi rimane. Cioè, quello poi gli compare sulla mappa. Ok, ci siamo tolti una scimmia. Quindi questo vuol dire che tra un po' io vedrò l'agente X sulla mappa. Questo sta contro la qualcosa. Senti, vogliono affaccare Giubei. Tre guardie ce l'hanno. Ok, se mo questi si sbrigano. Eccoli, stanno qua. Due guardie, ci siamo. Mandiamo Eli alla sedia. Eh, Eli questo revolver da gente è tipo Terminator, comunque. Senza di lui è finita. Ok, i soldi comunque sono bastati proprio a sufficienza per finire sta stanza. Cioè, proprio appena... Appena quello... Guardiamoci le ultime fasi dell'addestramento della... Non lo sto registrando. Ma certo, quando meno ti aspetti. Allora, vediamo. E appena si fa questo... G e si va a fare Giubei. Cerca un indizio e scopriamo che cosa devo fare con Giubei. Ok, potrei pensare di fare una ricerca. Che potrei fare? I superletti li ho fatti. Eh, ma qua ci siamo all'armadietti compatti. Quindi mi sa che prima che rifaccio le cose... Prima che rifaccio le casemme, faccio prima questa. Postazione di guardia avanzata. Eh, la macchina è super siero, devo fare sicuramente. I videogiochi. Potrei pure pensare di fare qualche altra trappola. Anzi, in realtà penso che è il momento di fare qualche trappola. A meno che non c'è qualcosa di proprio sexy qui. Eh, senti, fammo questo. La tensione per serie di criminali aumenta più lentamente. Ottimo. Poi devo allargare questa stanza. Quella sicuramente ci serve. Facciamolo. Già 130.000, solo questo. Mannaggia. Ok, poi spostiamo. Oh, benissimo. Mo' la stanza sembra un po' più presentabile. Tiè, conferma. Qui ci stanno dei Sabotator. Eccoli qui. Quindi li mandiamo via. Livello 4 di abilità. L'ultima volta che non ho visto i Sabotatori mi hanno fatto piangere. Quindi è l'ora di mandarli via. Vediamo se c'è sta qualche altro notizio strano. Pare de no. Va bene. Qualche obiettivo secondario. Costruisci casetta del laboratorio. Va benissimo. Giù per il vecchio. Mandiamo avanti. Ma questi sono travestiti. Quindi niente. Ah, li devi ricliccare a te perché a Pindosano. Tutto hanno Sabotato. Questi proprio senza nessun problema, ragazzi. Vediamo se riesco a manna via o se mi devono proprio fancasino per forza. A limite faccio scattare l'allarme rosso. Niente, niente. Questi inserivano, eh. Scusa, ma in realtà li catturo. Tiè. Non sanno che un agente non si può contrassegnare. Quindi ci andrà lo scagnozzo per forza. Ok, alla fine li hanno giocati. Perfetto. Oh, li voglio catturare, li voglio pure per far coso. Voglio pure per fare l'indottrinamento, così vediamo che succede. Questi inserivano non si può contrassegnare per una sinistra oppure lì. Ecco. Ecco, la signora Hansworth. La signora Hansworth. Quindi, costruisci videocamere di sicurezza nel mondo. Arriviamo a mua, stecca da io, no. Cioè, non puoi più giocare. Mi senti, andiamo qua. E allora deve fare qualche altra telecamerona. Quindi dovremo per forza mettere altri tavoli per telecamere. Niente, eh. Preciso non si è po' fa' Ah, dai, alla fine si è fatto preciso. E comunque, quando c'è stato l'incendio, mi hanno dato fuoco alla sedia che stava là. Eh, ma vedi che rosicata. Ok, vai. Catturiamo questi. Noi ci imbocca l'altra superagente. Macello. Quell'icona dovrebbe essere coso, dell'Henchman. Gli stanno a sparare in faccia. Ah, ma questi sono vincibili. Ah, sono vincibili. Ok, li ho catturati tutti e tre. E come vedete, mo' qua, le ricerche vanno a trance, eh. Ho finito il cash. Per continuare con la legge, comunque, dobbiamo solo fare delle telecamere. Quindi forse si aspetta un altro attacco. E ecco, è l'agente X. Quindi, in realtà, abbiamo capito che non possono morire esattamente come al primo gioco. Non possono morire e ti arrivano dentro la base a ripetizione. Questo potrebbe essere scomodo. Che cos'è questo? Particelle automiche. Cori. Una. Che è pure questa? Sì. Uno chef è riuscito a creare un forno che rende il cibo più gustoso, più lo lascia al suo interno. Sappiamo cosa lo alimenta, quindi rubiamolo. Le particelle automiche, ovviamente. Cosa altro potrebbe essere che alimenta un tale forno? Potremmo andare qui? No, perché l'agente X sta guardando cosa fai. E questo ritiene qua di corsa a rompere le balle. Perché c'ha le prove. Niente, ci rimbocca pure l'agente X. Qui avevamo crepato il demolitore, quindi possiamo andare a fare questo. Eh ragazzi, il momento che si sono aggiunti tutti questi super agenti è complicato. Eh, moltacci. Andava tutto bene la situazione. Ah, guarda dai pianiti sopra, vedi proprio con la colonna così. Ok. E all'ultimo piano non ve lo c'è niente. Un sabotatore è stato catturato. Voglio vedere cosa diventa il sabotatore se lo indottrino. Quindi facciamo così, tiè. Un agent è stato catturato. Ecco, questa magari potrebbe essere un'ottima motivazione per allargare le prigioni. Facendo una marea di celle. Qui hanno fatto tutto, ottimo. I stipendi? Tra quattro minuti. Gli famo shampoo. C'è Stylai, per fortuna, è il numero uno. Livello 4 questo. Chissà che cosa ci diventa. L'agente X è pronto a romperci i coglioni, dice il messaggio audio. Quindi sta per arrivare un altro super agente, ma ormai è una rotta di collo. 9, 8, 7, vediamo cosa diventa e poi ci lasciamo, ragazzi. Forse in realtà non ci pentiamo più di aver comprato questo attrezzo per l'indottrinamento. Un tecnico. Un tecnico. Ma che merda. Vabbè, dovrebbe essere gratis. Allora ragazzi, io con questo vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Abbiamo capito che i super agenti diventeranno probabilmente una cosa eternamente di fastidio. Però sembra che sono gestibili, almeno nella parte iniziale della partita, cioè questa. Io con questo vi saluto e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ecco gli agenti dell'agente X. Ricreppiamo tutti. Tiè. Ricreppiamo tutti. E vediamo qui fa battaglia e poi concludiamo, dai. Oh, eccolo! Ecco l'agente X. 300 di vita! Minioni, ricreppiamo l'agente X. Oh, ma c'è pure Maximilian, quindi qua se muore perdo. Oh, attenzione! Attenzione, corri! Ok, pistas investigatori, via. Ok, i mercenari che sparano, ma che amici! Appena sta per morire lo facciamolo correre, vai. Corri via. Scappa, scappa! Ok, scappa al Santa Santorum. Oh, l'agente X è messa attacca l'Eviginus! Scappa! No! Ma dove stai lì? Ok, questo è riuscito a scappare, vai. Oh, ma l'hanno smezzato? Questi stanno a sparare l'agente X. Tira fuori la pistola determinator. Ok, ci siamo. Ok, anche stavolta non è morto. Mezza base morta, ragazzi. Momenti pari pure l'Eviginus, vabbè, ci siamo salvati con questa bilagio. Ci vediamo alla prossima puntata, a presto!